Dylan Dog 419, Alba Chiara, non giudicate dalla copertina. Wobalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella fruttuosa rubrica Dylan Dog e nella rubrica della serie regolare di Dylan Dog, dove già dal mese scorso è iniziato il ciclo di tre storie in collaborazione con Vasco Rossi. Non temete, non c'è Vasco Rossi dentro la storia, per quanto un cantante italiano potrebbe tranquillamente camminare per Londra e chiedere i servigi di Dylan Dog. No, è successa un'altra cosa. Dal mese scorso hanno preso di ispirazione tre delle canzoni di Vasco Rossi dedicate a delle donne per elaborarci a livello personalissimo una storia. Il mese scorso è stata la volta di Paola Barbato che ha parlato di Sally, che ha rinarrato Sally in una storia molto bella. Questa volta è la volta di Gabriella Contu che invece ci parla di Alba Chiara. Prima di cominciare due annunci da fare, questa sera ci sarà una live dedicata a Dylan Dog e il mondo dell'arte. Siate puntuali, vi metto qua in descrizione il link, ve lo metto anche qua nelle schede, ve lo metto a fine di questo video. In questo video cliccateci e impostate il promemoria. Ore 21 parleremo delle opere pittoriche che sono state sparse per tutti i numeri di Dylan Dog, dall'86 a oggi, oppure comunque tutti quelli che abbiamo trovato. Siateci, siate in tanti, sarà una live, chiacchiereremo insieme di questa cosa. Se voi siete esperti di arte, appassionati di arte, sarebbe bello parlarne assieme. Secondo avviso invece la live che doveva esserci il mese scorso su Dylan Dog e la malattia è stata rimandata. Guarda caso, non è che eravamo ammalati, però ci sono stati dei contrattempi. Verrà fatta a fine mese o inizio mese prossimo, poi state sintonizzati per i dettagli. In questa storia i disegni sono di Sergio Gerasi e mi è piaciuto molto il suo taglio. Mi piace sempre molto su Dylan Dog, mi è piaciuto vederlo di nuovo nella storia, nella serie regolare. è una storia che parte in modo molto simile a quella del mese scorso, quindi per un attimo quasi ho sentito puzza di ripetitività. Però ragazzi, Dylan Dog è un investigatore privato, quindi è normale che una storia inizi con un cliente che si presenta alla sua porta. Cosa che invece solitamente non succede e devo dire, mi irrita molto di più quando Dylan Dog non ha un caso e comunque finisce in qualche storia che non quando sta davvero indagando su un caso. Quindi l'altra volta si presentava alla porta direttamente Sally, questa volta non si presenta direttamente Alba, nome abbreviato di Alba Chiara, ma si presenta un suo conoscente che ha un problema. Questo ragazzo è diventato invisibile. Ve lo ricordate Memorie dall'Invisibile? Se non ve lo ricordate ve lo metto qua sotto, sia il link per acquistare il fumetto sia la mia video recensione. Questo ragazzo ha un problema molto simile. È diventato invisibile perché la gente non lo notava, non lo considerava, ha smesso di vivere e ha iniziato solo ad esistere. Per quanto Alba Chiara sia una ragazza piena di vita, rischia comunque di fare la fine di questo povero ragazzo invisibile e questo ragazzo, dato che è innamorato di Alba Chiara, vuole salvarla. E così vediamo un Dylan Dog molto presente come investigatore privato che segue Alba Chiara nella sua vita di tutti i giorni tenendosi a distanza e noi diventiamo l'occhio di Dylan Dog che osserva questa solarissima ragazza vivere un'adolescenza, una post-adolescenza, pare essere al primo anno di università e sembra proprio che stia vivendo una vita genuina, ma c'è qualcosa che le bisbiglia nelle orecchie che la butta giù, la affossa. Come lo stesso cliente di Dylan ha spiegato, non tutte le persone diventano invisibili per paura o per malasorte. Ci sono anche delle persone che vogliono essere invisibili per non farsi notare quando commettono qualcosa di orrendo, quando fanno del male alla vita degli altri. Che dire, tre albi di fila in cui il nome della storia è un nome femminile, in cui le protagoniste sono donne, in cui le sceneggiatrici sono donne e se nel numero scorso era abbastanza velato il femminismo in un paio di scene che avevo notato, che se volete recuperare il mio video su Sally le avevo citate, poi magari, non so, magari io ho visto più di quello che c'era, però mi è sembrato di notare una nota di femminismo. Qua invece si fa un passo in più, il Girl Empowering di Alba Chiara è davvero potente. Si mostra come Alba Chiara non voglia sottostare a questo stronzo invisibile che gli sbiglia, che lei non vale niente, che lei è solo sua, solo sua di questo maligno invisibile, non del povero ragazzo invisibile che ha una cotta per lei. E di come lei vuole e riesce a combattere la sua battaglia e andare contro a queste voci che ha nella testa. Questo è un chiaro, chiarissimo riferimento a molte donne che si trovano nella situazione in cui si sta trovando Alba Chiara in questo albo. Il fatto di essere, magari anche tra le mura domestiche, non violentate in senso fisico del termine, non picchiate fisicamente, ma violentate psicologicamente, in cui sono messe alla berlina, anche magari da familiari, da mariti, da compagni, da padri, perché no? Qua in questo caso la voce è di qualcuno all'esterno, che è comunque presente nella vita di Alba Chiara, ma poteva essere benissimo un patrigno, un padre, un marito, un compagno, un fidanzato. Fortunatamente in questo numero la protagonista è Alba Chiara, una ragazza genuina che è circondata dalle amicizie vere, profonde, che nonostante le voci che ha nella testa gli dicono che non lo sono, riesce comunque a capire dove sta la ragione, dove sta la verità e a farsi forza dei rapporti consolidati che ha per combattere invece quelli tossici. Gancio tra Alba Chiara e la sua ritrovata salute, la sua ritrovata forza nei rapporti che ha con le proprie amiche è proprio Dylan Dog, che è il primo con cui lei riesce a sfogarsi, sapendo la fama dell'indagatore dell'incubo, sapendo che ha a che fare con delle assurdità che legge sui rotocalchi, si affida a lui per raccontargli questa cosa impossibile che la sta perseguitando. Dylan Dog fa un ottimo lavoro investigativo, fa un ottimo lavoro di guardia del corpo e laddove anche Dylan Dog fallisce viene comunque aiutato dalle amiche di Alba Chiara, che formano una perfetta squadra. Perché all'inizio del video ho detto non giudicate questo numero dalla copertina? Perché se nel numero scorso ci stava che in prima di copertina ci fossero Dylan e Vasco per sancire l'inizio di questo trittico e la copertina era anche vagamente decente, in questo mese a me la copertina non è piaciuta per nulla, perché abbiamo un Vasco Rossi che è sì disegnato, ma è talmente fatto bene, quindi non è un insulto quello che sto a dire, è talmente fatto bene che non sembra disegnato, cioè sembra che abbiano messo Vasco in fotografia, con qualche effetto lo abbiano fatto sembrare un disegno e abbiano disegnato solo questa parte. Quindi il risultato purtroppo non è assolutamente nelle mie corde, sembra molto molto pacchiano. Poi lo so che il motivo è puramente commerciale, però devo dire che per quanto un fan di Vasco Rossi possa acquistare al volo questo numero, un fan di Dylan Dog potrebbe invece esserne rallentato. Ecco, non fermatevi a questa copertina, andate oltre, perché la storia merita davvero tanto. Se posso osare, mi è piaciuta anche di più di Sally, forse perché Sally era di per sé una storia molto più cupa, mentre qua c'è un po' più di solarità. Un'altra cosa per cui mi è piaciuta di più Alba Chiara rispetto a Sally è che Sally, forse anche perché era la pripista di questa trilogia, citava palesemente delle strofe. C'era proprio la frase quando non provocava turbamenti, c'era una cosa così, non c'era quando uno sguardo provocava turbamenti, ma c'era la parte in cui dice non provo più turbamenti, o comunque c'erano tante frasi messe lì per forzare un po' la mano sul fatto che era Sally, era la Sally di Vasco. Qua fortunatamente questa cosa non è successa, è molto più sottile la presenza di Alba Chiara, ma ci sono tanti riferimenti carini ad Alba Chiara e anche alla storia in sé che mi sono piaciuti tantissimo. Ora, se non volete sentire lo spoiler, tappatevi le orecchie perché i riferimenti ovviamente fanno automaticamente spoiler, soprattutto alla parte riferita al finale della storia. Dalla quarta di copertina di Cavenago in cui c'è Alba Chiara circondata da un serpente con Dylan che prende in mano la mela, questa citazione quasi biblica, mi è piaciuta molto perché si riferisce anche alla parte della canzone dove dice cammini per strada mangiando una mela con i libri di scuola, ti piace studiare, non te ne devi vergognare, eccetera eccetera. È molto presente il fatto che Alba abbia una mela in mano e cerchi di mangiarla, c'è una scena particolare dove questa mela le cade dalle mani per finire in uno scantinato dell'università e viene assalita da questa sorta di ombra che assume la forma di un serpente, come se fosse quasi una tentazione nell'uscire dalla sua ingenuità, dalla sua bolla di genuinità per andare in questo mondo pieno di schifo che è il mondo in cui viviamo noi. Mi piace proprio che Alba sia disegnata in maniera solare, quasi hippie, anche se il testo dice ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. A un primo sguardo i suoi vestiti mi sembrava che volessero attirare l'attenzione perché avevano un look molto particolare, ma è chiaro che non sono assolutamente scelti per avere uno stile hippie, ma sono scelti proprio, diciamo, alla Carlona perché nulla attiri l'attenzione sul suo corpo nudo e quindi è molto coperta Alba. Non è una scelta di stile, ma è proprio una scelta di semplicità. Mi è piaciuto un sacco che anche l'amica di Alba abbia avuto lo stesso problema di invisibilità che sia riuscita a sconfiggerla in qualche modo e che ne porti ancora i segni. Ha una sorta di tatuaggio a forma di stella in cui Dylan riesce a vedere attraverso e è una chicca fantastica perché per tutto il tempo questa amica di Alba Chiara indossa una polsiera proprio per nascondere questa cicatrice e la vediamo alla fine. Devo dire che pensavo che il colpevole di tutto questo fosse quel ragazzo timido con gli occhiali che a volte salutava Alba durante la storia. Pensavo fosse quello perché c'era già un timidone invisibile e pensavo che questo fosse il timidone che sotto sotto era uno stronzo. Non pensavo assolutamente che il cattivo fosse il ragazzo popolare ma non perché non mi aspettavo il cliché del ragazzo popolare cattivo ma proprio perché è un ragazzo popolare mi aspettavo che fosse molto di più interessato ad Alba per trattarle in questo modo invece vediamo che nella storia ha solo un'interazione in cui la invita a una festa. Ecco mi aspettavo magari un filo più di rapporto tra Alba e questo ragazzo per cui lui si ossessionasse in modo così negativo verso di lei. Sono stato anche contento che alla fine non fosse stato il nerd che era l'ennesimo timido che rappresentava la gente la massa di persone che adorava Alba per la sua genuinità. Ma non può essere un numero di Dylan senza un finale dolce amaro quantomeno non può essere un numero di Dylan di quelli belli e memorabili senza un finale dolce amaro e questo nostro povero ragazzo invisibile fa più o meno la fine di quello che c'è nel numero 19 in memoria dall'invisibile cioè la sua invisibilità permane, permane al punto che quando tenta di rendersi visibile agli occhi di Alba e portarle dei fiori per la sua pronta guarigione Alba non lo vede al punto che nemmeno lo urta gli passa attraverso sancendo perennemente la sua scomparsa di questo ragazzo. Come il mese scorso oltre alle 96 pagine classiche ci sono una ventina di pagine di intervista agli autori ai disegnatori e a Vasco Rossi anche per i fan di Vasco non è la stessa intervista del mese scorso il mese scorso era un'intervista molto più introduttiva qua invece Vasco si è sbizzarrito nel rispondere all'intervistatore citando perissequamente molte delle sue canzoni è quasi una gioia per un fan di Vasco cogliere tutte le canzoni che ha citato per rispondere alle domande dell'intervistatore poi hanno intervistato Gabriella Contu che ha spiegato perché ha reso Alba Chiara in questo modo e devo dire che dopo la sua spiegazione ho apprezzato ancora di più questa cosa cioè lei dice ok Alba Chiara è una canzone in cui Vasco ci racconta questo personaggio per immagini ma non ci dà una storia di com'è realmente come Perselli questo perché Vasco si è ispirato a una ragazza che vedeva passare quando lui era in casa a studiare di conseguenza ha pensato e se Alba Chiara fosse una ragazza che nessuno conosce davvero una ragazza bella genuina popolare che tutti vedono dal proprio punto di vista e questo può generare in Alba una sorta di solitudine proprio perché nessuno sa com'è veramente quindi presa questa idea ha reso Alba questo personaggio che abbiamo visto in questo numero e che ho apprezzato davvero tanto complimenti a Gabriella Contu anche alla luce del fatto che negli ultimi tre storie che ho parlato di cui ho parlato che erano state scritte dalla Contu a me purtroppo non erano piaciute mi è dispiaciuto tantissimo se davvero se queste ultime tre storie non mi sono piaciute perché nel frattempo tu eri così impegnata a scrivere questa storia in questo modo così fantastico perdonatissima perdonatissima questa storia vale tutte le altre storie che ho letto di recente che non mi sono piaciute quindi grazie per questa storia Gabriella Contu ovviamente i soliti complimenti anche a Sergio Gerasi che apprezzo tantissimo a livello commerciale ovviamente questo esperimento sta vendendo molte copie pare il triplo delle copie vendute ovviamente ci si sta basando su Sally vediamo a questo giro come andrà a livello di storia ve lo dico merita tantissimo l'unica pecca appunto è che la copertina un po' pacchiana davanti che però è il motivo per cui si vende il triplo a me non piace molto però vabbè tanto ce ne sarà ancora una e poi finirà questo esperimento un esperimento che però a sto punto non voglio che resti un caso isolato forse tre numeri di fila sono un po' tanti però io faccio un appello quest'anno abbiamo toccato Vasco però ci sono altri fenomeni degli anni 90 che in quest'epoca di revival e di effetto nostalgia possiamo rispolverare quest'anno l'anno prossimo ovviamente non facciamone troppi in un anno però nel 2022 nell'estate 2022 io voglio gli 883 ragazzi io voglio Max Pezzali soprattutto voglio La Donna il sogno il grande incubo in cui Max Pezzali ha citato proprio nella copertina dell'album una scena dilaniata una scena alla Dylan Dog quindi ci sta che venga citata questa storia e altre due storie di Max Pezzali che rappresentano un po' gli anni 90 fate voi io vi lancio questo amo a voi piacerebbe scrivetemi qua sotto una collaborazione tra Dylan Dog e un cantante italiano che vi piacerebbe vedere l'anno prossimo scrivetemi sia qualcosa di vero e scrivetemi anche qualche cagata perché tanto lo so che mi scriverete anche delle cagate però almeno specificate se state scherzando oppure no io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui vi ricordo ancora una volta che stasera alle ore 21 c'è la live Dylan Dog e l'arte quindi andate qui sotto in descrizione cliccate sul link alla live e impostate il pro memoria e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci a stasera a stasera a stasera a stasera a stasera a stasera